Architettura per l'umanità E' una filosofia della non filosofia E' una filosofia della non filosofia Credo che per me l'architectura per l'umanità non è tanto una filosofia quanto un modo di agire Per cui credo che esistano grandi architetti che non sono grandi filosofi ma grandi uomini di azione Che agiscono piuttosto che parlare Qualche progetto più riuscito che vuole raccontare? Abbiamo lavorato con la comunità mano in mano e abbiamo fatto parte di riempire 90% della città E abbiamo fatto questo in meno di tre anni E abbiamo fatto tutto con fondi individuali e nessun involvimento di governo E' una partenza pubblica e privata che è molto successiva E credo che un modello che può essere replicato in Acquia o in un'altra parte che ha avuto un disastro Noi lavoriamo, abbiamo progetti in 22 paesi e interioriamo soprattutto Credo probabilmente i progetti di maggior successo sono quelli in situazioni post-catastrofe Noi lavoriamo a stretto contatto con le persone Per esempio parlo della zona dopo la tragedia del Mississippi Quindi la zona del Mississippi L'abbiamo ricostruito in meno di tre anni quasi il 90% delle case e delle città Lavoriamo in stretto contatto con le persone Mettiamo lì i nostri uffici Lavoriamo con le persone del luogo, con soldi che sono nostri e non dati dai governi Quindi credo che sia un modello che si possa riproporre e ripresentare in tante altre situazioni Soprattutto dopo i disastri e i catastrofi Grazie